Augusta, violenza sulle donne, la Polizia di Stato incontra gli alunni dell'Istituto Superiore a Ruiz. Nella giornata di ieri il dirigente del Commissariato di Augusto, Antonio Migliorisi, ha incontrato circa mille alunni dell'Istituto Superiore a Ruiz di Augusta. L'incontro che si è svolto insieme alle rappresentanti del Centro Antivirenza Nesea di Augusta ha riguardato i comportamenti che generano la violenza di genere e le conseguenze psicologiche e giuridiche di tali gesti. L'evento si innesta nelle iniziative intraprese a Siracusa e provincia in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.